Violenza tra le mura domestiche a Tuturano, con la compagnia della stazione locale dei Carabinieri che è intervenuta arrestando per maltrattamenti in famiglia un trentenne del luogo. Nel pomeriggio di martedì 7 luglio i militari sono intervenuti presso un'abitazione della frazione Brindisina, dopo una richiesta telefonica pervenuta al 112. All'arrivo sul posto i Carabinieri hanno trovato l'uomo che stava credendo sia verbalmente che fisicamente la moglie. A rendere ancora più grave il quadro della drammatica situazione anche la presenza dei tre figli minori della coppia che stavano assistendo alla scena di violenza. La discussione sarebbe nata per futili motivi, con la donna che sarebbe stata colpita con vari pugni, riportando lesioni al volto. Al termine delle formalità di rito e a conclusione degli accertamenti portati a termine dai Carabinieri della stazione di Tuturano, l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un'abitazione diversa da quella familiare. Un grave episodio di violenza che ovviamente rimette al centro il tema della violenza domestica e di genere, aggiungendo un ulteriore elemento di criticità rappresentato dalla presenza di minori costretti ad assistere a questi episodi.